Ci rincontriamo! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Sì, avete capito bene! Ci sarà un nuovo incontro nazionale di Arte per te Finalmente abbiamo deciso il luogo, la data E sono qui per anticiparvelo Oggi ve lo dico con un determinato anticipo Per fare in modo che chi voglia venire a conoscermi Possa farlo senza spendere un occhio della testa Per fare biglietti aerei o del treni Infatti io ho fatto il mio biglietto con pochissimi euro Perché ci ho pensato in anticipo Vi sto tenendo sulle spine, vero? Sì, lo sto facendo apposta E così vi dico che il prossimo incontro si terrà a novembre Nel giorno 22 di novembre Un sabato pomeriggio All'incirca verso le 16 Poi vi dirò tutto dettagliatamente in un video dedicato Un mesetto prima dell'incontro In pratica agli orari E si terrà a Bologna E sì, di nuovo nord Perché al sud non sono proprio riuscita ad organizzare un incontro Quindi si aremo di nuovo al nord A Bologna Ma questa volta sarà tutto speciale Perché Arte per te quest'anno Sarà media partner Della fiera della creatività Delle belle arti Della hobbistica di Bologna Organizzata da Mondo Creativo Quindi essendo media partner Io partirò per stare lì in fiera Tre giorni E raccontarvi l'iter della fiera Le novità che troverò Insomma, vi terrò aggiornati Con un diario costante su Facebook E vi farò poi un dopo Un bel video In cui vi racconterò per fila e per segno Le novità che avrò visto E quello che c'è in questa fiera Che mi dicono essere bellissima Io non sono mai stata È la prima volta anche per me E quindi sono emozionatissima E ancora più emozionata Perché mi hanno offerto un luogo Dove poter incontrare i miei follower All'interno della fiera Infatti ci sarà dedicata un'area Dove poter vederci Incontrarci il sabato Intorno alle 16 Io vi aspetto Vi aspetto numerosi Vi lascio nel box informazioni Il link di Mondo Creativo In cui potrete trovare Tutte le informazioni sulla fiera E anche la possibilità Di acquistare online Il biglietto per accedere alla fiera E sarà bellissimo Sarà bellissimo per me Perché potrò rincontrarvi Sarà bellissimo Perché ho organizzato Questi incontri in maniera speciale Infatti ci saranno Molti sponsor amici Che ci faranno Compagnia Con i loro Regalini Per tutti voi Quindi ci saranno Tantissimi ricchi premi E cotion Tantissimi pensierini Per voi E in più Sorpresa Durante questo incontro Gireremo un paio di video Per la programmazione Natalizia Di Arte per te Sì E in questi video Ci sarete voi Infatti lì Sorteggerò un paio di voi Che verranno a fare Il video con me Proprio lì E così tutti potrete vedere Come si fa un video Di Arte per te Quanto lavoro c'è Che lavoro c'è Che divertimento c'è Dietro ad ogni video E voi stessi Potrete essere i protagonisti Alcuni di voi Proprio in prima persona Accanto a me Come se foste qua A lavorare insieme a me E altri Non vi preoccupate Perché tutti quelli Che ci sarete Verrete inquadrati E interagirete con noi Durante tutto il video In modo che Durante la programmazione Di Natale Sarete online Su Arte per te Insieme a me A salutare tutti gli amici Che non saranno potuti venire Io vi aspetto Veramente numerosi So che questa fiera È bellissima Che è grandissima Che si parla di creatività Tutto tondo Dal crafting Alle belle arti Al cucito Allo scrapbooking Allo shabby chic Al cake designer C'è di tutto Là dentro È quindi un calderone Di creatività Che sono curiosissima Di conoscere Ma per me La cosa più importante È potervi abbracciare Dare un volto Al vostro scrivere Dietro la pagina facebook Potervi ringraziare personalmente Per volermi così bene Per esserci sempre E questo video Ve lo sto facendo Proprio per darvi La possibilità Di farvi un biglietto Low cost Per venirmi a trovare Ho pensato che La fiera della creatività Fosse un qualcosa di speciale Per voi Perché non dovevate Spostarvi solo per venire A vedere me Come sono stati Gli altri due incontri E mi è Pesato un po' Chiedervi di venire Solo per me In questo caso Potreste prendervi un weekend Con il vostro marito Il fidanzato La famiglia Venire a vedere Una bellissima città Come Bologna Che è una città Stupenda Stupenda Quindi se volete Venire a vedere Una bella città Se volete venire A vedere una bella Fiera della creatività E nel frattempo Se volete venire Ad abbracciare La vostra ombretta Io vi aspetto Vi aspetto numerosi E spero di incontrarvi Tutti Il più alto numero possibile Mi dispiace Se il sud Ci sta rimanendo male Perché io avevo detto Avevo espresso il desiderio Di organizzare Il mio incontro Proprio al sud Ed è un mio fortissimo Desiderio organizzare L'incontro al sud Ma sinceramente Non riesco Non ci sono Non riesco Di interagire Con le strutture del sud Per Un rapporto Per approcciarmi A un rapporto fattivo E creare qualcosa insieme Forse è un mio limite Non lo so Non sto riuscendo Ad organizzare Ma non demordo Perché ci tengo Enormemente Insomma Il sud è la mia terra La mia parte d'Italia Diciamo così Quindi figuratevi voi Se io non ci tengo A venire in una città del sud Lo scopo che mi propongo È quello Piano piano Di risalire Tutte le città Fino ad abbracciarvi E conoscervi tutti Intanto godiamo Di quello che abbiamo Ringrazio Mondo Creativo Per avermi scelta Come media partner Ringrazio Mondo Creativo Per darci questa opportunità Di conoscerci Rivederci Di riabbracciarci E noi ci rivediamo Penso presto Spero a Bologna Dal 21 al 23 di novembre Ci sarà la fiera L'incontro di arte per te Invece sarà sabato 22 novembre Verso le ore 16 All'interno della fiera Ci divertiremo Giocheremo insieme Faremo i video Tanti sorteggi Ci conosceremo Ci abbraccieremo E potremo stare Quelle tre orette insieme Che non colmeranno La lontananza Di tutto l'anno Ma insomma Quanto meno Ci daranno modo Di darci un bacio E di potervi ringraziare Personalmente Spero di vedervi numerosi E vi rimando Al prossimo video Che naturalmente Sarà creativo Da ombretta Ed arte per te Tutto Con la felicità del cuore Vi dico a presto Ci vediamo a Bologna Ciao 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 Grazie a tutti.